Presento velocemente due ordini del giorno. Il primo è il 26032 relativo alla valorizzazione delle residenze reali dei Castelli Lombardi. Noi chiediamo sostanzialmente con questo ordine del giorno che ci sia una particolare attenzione nei confronti di questi beni culturali e in particolare chiediamo che venga inserito nel programma triennale per la cultura e nel piano operativo annuale il recupero, la promozione e la valorizzazione delle residenze reali dei Castelli presenti in Lombardia. Quindi non solo la reggia, noi vi ricordo che abbiamo una delle tre reggi presenti in Italia, Monza, oltre a Torino e Caserta, ma anche tutte le altre residenze reali e i Castelli. Per cui una mappatura delle residenze reali dei Castelli presenti in Lombardia, il recupero e la conservazione dei complessi monumentali e ambientali ed interventi mirati con il contesto territoriale secondo obiettivi di sviluppo sostenibile e promozione dell'attrattività. Il secondo ordine del giorno è il 26.030 che è specifico sulla Villa Reale di Monza. Noi sappiamo bene che dal 2009 Regione Lombardia è un consorziato promotore del consorzio pubblico che ha il compito di valorizzare il bene culturale Villa Reale e Parco di Monza, tant'è che la Regione ha anche approvato lo statuto del consorzio Villa Reale e Parco di Monza e questo statuto prevede tra le altre cose anche l'istituzione di un curatore di comprovato valore tecnico scientifico che abbia il compito di salvaguardare la fruizione pubblica dell'intero patrimonio culturale. Ebbene questo curatore o questo team di curatori non è mai stato istituito all'interno del consorzio e sicuramente questo ha creato dei problemi nella piena valorizzazione del bene, tant'è che da un recente sondaggio è emerso che solo l'1% dei visitatori arriva dall'Europa e addirittura nessuno dal resto del mondo. È un bene culturale che non ha nulla da invidiare a Versailles ma evidentemente è conosciuto solo all'interno della nostra Regione e poco più. Senza poi contare anche tutti i problemi che sono emersi anche sulla stampa nei mesi scorsi relativi al concessionario ai subconcessionari, ci sono stati delle liti anche tra di loro, dei contenziosi legali, tutta una serie di beghe che di certo non hanno aiutato la fruizione piena di questo bene culturale. Quindi noi chiediamo con quest'ordine del giorno che la Regione Lombardia si faccia carico presso il consorzio affinché venga individuato un curatore di comprovato valore tecnico scientifico per salvaguardare la fruizione pubblica dell'intero patrimonio per fare un minimo di coordinamento perché all'interno di quel bene evidentemente non sempre il bene comune viene messo al primo posto. Grazie.